Adesso andiamo a parlare oggi della storia del clima fino a cento anni fa più o meno. Però oltre alla storia del clima usiamo questa sequenza di avvenimenti per andare di nuovo a esplorare alcuni dei meccanismi con cui il clima cambia, si evolve, la dinamica di questo sistema. Quindi siamo nella seconda parte. Riprendo da una cosa già detta ieri, cioè i feedback, i meccanismi di controllo e qui ci sono elencati diversi, alcuni dei quali sono stati esplorati un po' più in dettaglio. C'è fra questi anche ENSO, che vuol dire El Nino, la Southern Oscillation, che è un feedback fra oceano e atmosfera ed è responsabile del, insomma quello che viene chiamato El Nino, del periodo di scarsa risalita di acque profonde lungo le coste del Sud America ed è un fenomeno che si verifica più o meno, diciamo un periodo molto irregolare, ma ogni, fra 4 e 7 anni, più o meno nel periodo di Natale. Allora in generale vicino al Sud America abbiamo una risalita di acqua che quindi porta molto nutriente, quindi acque molto pescose e a volte questa risalita si interrompe e si interrompe perché c'è una interazione forte fra la circolazione oceanica e i venti, in particolare quella che è chiamata la circolazione di Walker, che è una circolazione lungo l'equatore, una circolazione equatoriale, che si indebolisce e quindi spinge di meno le acque dall'ovest verso l'est, cioè verso la costa asiatica, e quindi porta a meno la risalita. Questo è quello che viene chiamato il fenomeno di El Nino, che ha effetti su molte zone, certamente intorno al Pacifico, ma anche altrove. Ed è appunto un esempio di interazione fra oceano e atmosfera ed è importante dal punto di vista climatico, perché l'alternanza fra lo stato di El Nino e lo stato, chiamiamolo, normale, che viene detto per simmetria alla Ligna, può cambiare in base alle condizioni climatiche, per esempio ci torneremo fra poco, ma nell'Eocene, circa 50-60 milioni di anni fa, c'era probabilmente un El Nino permanente, cioè la dinamica era molto diversa. Rivedendo alcune delle cose dette ieri, abbiamo il feedback ghiaccio albedo, che abbiamo esplorato abbastanza in dettaglio, abbiamo il feedback fra temperatura e quantità di vapore in atmosfera, mediato dall'equazione di Claudius Clapeyron, e poi abbiamo parlato delle nubi con due feedback contrapposti, un effetto raffreddante dovuto all'albedo delle nubi e un effetto serra dovuto al fatto che le nubi contengono vapore d'acqua e goccioline d'acqua, che invece porta a un riscaldamento. E dicevamo che quale dei due prevalga dipende dalle condizioni climatiche sostanzialmente. Oggi prevale l'effetto dell'albedo, quindi il raffreddamento, però non è detto che sia così in altri climi diversi o nel clima del futuro. E poi abbiamo visto l'interazione vegetazione-clima, su cui torneremo, una estensione del meccanismo di Cerni, torneremo alla fine dell'incontro di oggi. Prima di passare alla storia del clima, però, vorrei parlare di un altro aspetto cruciale del sistema Terra, cioè i cicli cosiddetti biogeochimici. Sono detti biogeochimici perché coinvolgono elementi o molecole, elementi chimici o molecole, come nel caso dell'acqua, e biogeo perché coinvolgono sia la componente biologica, la biosfera, sia la componente geologica superficiale, il suolo, per esempio, i sedimenti, ma anche profonda, la crosta profonda e il mantello. I cicli biogeochimici sono un aspetto cruciale di questo pianeta perché fanno circolare questi elementi attraverso tutte le sfere, cioè i compartimenti. Nello studio dei cicli biogeochimici non ci interessa tanto l'atmosfera di per sé, l'oceano. In passato spesso il clima è stato studiato suddividendo queste sfere, ma più che altro per un motivo storico, perché i fisici dell'atmosfera stavano in un dipartimento diverso rispetto agli oceanografi, o rispetto ai biologi, o rispetto ai geologi. E quindi ciascuno di loro costruiva il proprio modello concettuale, e poi il modello numerico, di quel sottosistema. Tant'è che, lo vediamo poi lunedì, i modelli numerici del clima attuali sono un pochino come dei mostri di Frankenstein, cioè prendono il modello degli atmosferici, quello dei geologi, quello dei biologi, quello degli oceanografi, li mettono insieme, li fanno parlare e qualcosa succede. È molto difficile riscrivere dall'inizio un modello davvero completamente integrato. Ci sono dei tentativi, ma è più complesso perché vorrebbe dire partire da zero. Mentre invece ciascuno di questi compartimenti ha alle spalle una storia di 50 anni, e a volte anche di più, di prima modelli concettuali e poi modelli numerici. Allora, però i cicli biogeochimici passano attraverso tutti questi compartimenti. In realtà quello che interessa nello studiare i cicli biogeochimici non è tanto la dinamica dentro un compartimento, ma il fatto che fra un serbatoio e un altro ci sono dei flussi, e quindi stiamo cercando di capire i flussi e i collegamenti fra questi serbatoi diversi. In più i cicli biogeochimici sono comunque collegati fra loro. Cioè il ciclo dell'azoto non è indipendente dal ciclo dell'acqua, non è indipendente dal ciclo del carbonio, del fosforo, e quindi sono cicli biogeochimici accoppiati. Ed è però un aspetto, un altro modo per affrontare la complessità del sistema climatico terrestre. Il ciclo dell'azoto, per esempio, è estremamente complesso, perché abbiamo dell'azoto in atmosfera, che viene rilasciato anche dalle rocce, diciamo dalla dinamica della costa del mantello, però poi c'è tutta una parte biologica assolutamente importante di assorbimento, di utilizzo da parte dei batteri, di presa dei nutrienti azotati da parte della vegetazione. Quindi è un ciclo estremamente complicato, di cui non dirò molto più di questo, se non tornarci lunedì, perché una delle problematiche serie, tanto quanto quella del clima, è l'enorme perturbazione che abbiamo fatto negli ultimi decenni al ciclo dell'azoto, proprio soprattutto per un uso esagerato dei fertilizzanti azotati, che portano poi l'eutrofizzazione sia di acque interne che delle acque costiere. Ed è considerato uno degli elementi più a rischio del sistema Terra per l'impatto delle attività antropiche. Un altro ciclo molto importante, ovviamente, è il ciclo dell'acqua. Come vi dicevo già ieri, la temperatura e la pressione in atmosfera sono vicine a quelle del punto triplo dell'acqua, e quindi abbiamo una grande facilità di passaggio da uno stato all'altro, c'è l'astroliquido al vapore al solido, e questo vuol dire che c'è un ciclo idrologico estremamente forte, con i rilasci di calore latente che dicevamo già ieri. Quindi una grande evaporazione dal mare, tutte le superfici liquide, ma dal mare in particolare, e c'è abbondanza di acqua da fare evaporare, quindi la Terra è un pianeta estremamente umido in questo senso, poi viene portato in alto la condensazione, il trasferimento per quegli stessi venti che abbiamo visto ieri, la precipitazione che può essere solida o liquida, e poi il ruscellamento superficiale o importantissimo subsuperficiare, cioè il flusso di acqua negli acquiferi delle falde, che è una componente essenziale. E poi ovviamente parte dell'acqua che invece si solidifica in ghiaccio, in montagna, le calotte glaciali. Ecco, il ciclo dell'acqua è strettamente collegato al clima, e parlando della storia del clima della Terra ne parliamo un po' meglio, tendenzialmente più fa caldo, più il ciclo dell'acqua, il ciclo idrologico è intenso, proprio perché ci sta più vapore in atmosfera, per il solito Claudius Clapeyron, e se c'è più vapore vuol dire che c'è più calore latente che può essere scambiato, e c'è anche una maggiore instabilità in realtà della colonna atmosferica. E quindi abbiamo un ciclo dell'acqua molto più vivace. Un po' lo stiamo vedendo già adesso, con i cambiamenti climatici in corso, che sono molto rilevanti per noi, ma modesti se confrontati alla storia del clima della Terra, e tanto più lo vedremo nei periodi molto caldi del passato, come il ciclo dell'acqua fosse molto più violento, e nello stesso tempo all'opposto, quando il clima è molto più freddo, c'è la temperatura molto più bassa, ci sta meno vapore d'acqua in atmosfera, e quindi il ciclo idrologico è meno forte, il clima è più arido, c'è molta più polvere, e piove di meno, diciamo, grosso modo. Quindi il ciclo idrologico è molto importante. Molto, molto importante è ovviamente il ciclo globale del carbonio, che è importante per il clima della Terra e per la vita sulla Terra. Allora, il ciclo globale del carbonio ha due rami, un ramo lento, geologico, che qui è disegnato con quell'ovale rosso, e un ramo veloce, biologico. Il ramo geologico scende in profondità fino nel mantello, cioè mette insieme atmosfera, crosta e mantello superiore, ed è ovviamente molto più lento, ed è difficile dire quanto scambia, perché misurarlo dai vulcani sì è facile, però ci sono tutte le faglie, cioè quelle rotture, a volte visibilissime, a volte no, nella crosta terrestre, da cui può esserci emissione di CO2. E in effetti anche in Italia ci sono stati parecchi lavori che sono andati a misurare in alcune faglie, proprio queste cosiddette emissioni diffuse, però non è che si può fare dovunque. E quindi è una stima, la stima attuale è in realtà fra 0,5 e 1 miliardo di tonnellate di carbonio per anno. Attenzione, che sono scambiate, cioè non vuol dire che sono buttate fuori e basta, sono portate fuori e riportate da altri processi, riportate in profondità. Quindi è appunto un ciclo. Può sbilanciarsi e vedremo che in alcuni casi si è sbilanciato, ma comunque lo sbilanciamento è sempre molto più piccolo rispetto all'intensità del ciclo. Il ciclo biologico invece è confinato alla superficie, è molto più veloce, in realtà coinvolge dei serbatoi di carbonio che ne hanno molto meno rispetto a quello che c'è nel mantello. Nel mantello c'è una quantità inesorabile, direi, di carbonio rispetto a quello che c'è sulla superficie. Però è un ciclo molto più veloce e quindi scambia molto di più. Il ciclo biologico scambia circa 200 miliardi di tonnellate di carbonio per anno, cioè 200 petagrammi di carbonio per anno. E quindi è più veloce, più superficiale e i due cicli però interagiscono fra di loro, anche se hanno dei tempi scala estremamente diversi. Gli elementi del ciclo del carbonio sono per esempio gli incendi, gli scambi sulla superficie fra suolo, vegetazione e atmosfera, ma anche i diamanti profondi che sono sempre parte di questo ciclo molto complesso e molto importante. Allora, possiamo andare a studiare un po' meglio il ciclo geologico perché è una caratteristica molto importante del nostro pianeta. Allora, il punto di partenza è che, è un ciclo quindi possiamo partire dove vogliamo, ma partiamo dal fatto che in atmosfera c'è dell'anidride carbonica. Allora, se c'è dell'anidride carbonica, questa si combina con la pioggia e forma acido carbonico che scende con la pioggia sulla superficie e reagisce con le rocce, in particolare per esempio con i silicati. E reagendo con questo fa questo processo che in inglese viene chiamato weathering e che noi lo chiamiamo alterazione delle rocce superficiari. E forma sostanzialmente dei vari sali di carbonio che vengono portati dai fiumi nelle acque costiere e sulla piattaforma continentale. Qui il carbonio viene utilizzato soprattutto nei gusci, per esempio di vari organismi marini, di foroni minifere, di altri, insomma, viene utilizzato per costruire questi gusci quando gli animali muoiono e questi gusci si depositano sul fondo e formano delle rocce carbonatiche appunto sottomarine, ma relativamente dove il mare è basso, insomma, sulle pettaforma continentale, perché molti di questi organismi, non tutti, ma molti stanno nelle zone più produttive che sono appunto, dal punto di vista ecologico, che sono lungo le coste. Allora, a questo punto, se ci fermassimo qui, noi avremmo che la CO2 in atmosfera verrebbe assorbita da questi carbonati, cioè formerebbe questi carbonati e la CO2 starebbe lì e non si muoverebbe più nulla e quindi ci sarebbe una diminuzione dell'anidride carbonica in atmosfera, quindi una diminuzione dell'effetto serra. Però sulla Terra abbiamo la tettonica a placche e ricordo che la Terra è l'unico pianeta noto in cui ci sia tettonica a placche. Negli altri pianeti del sistema solare attualmente non ci sono evidenze che ce lo sia. Nella tettonica a placche abbiamo che quando due placche si incontrano, la parte continentale, la parte di crosta continentale, è più leggera, galleggia, rimane in alto, forma le montagne, ma la crosta oceanica con i carbonati che ci sono sopra viene portata in profondità, nella parte del mantello superiore, nel mantello superficiale. E quindi qui cosa succede? Viene riscaldata di nuovo, si fonde parzialmente o totalmente, c'è una metamorfosi delle rocce, processi metamorfici delle rocce, ma viene rilasciato di nuovo quel carbonio che può combinarsi con l'ossigeno e essere quindi ributtato in atmosfera dai vulcani. Da proprio quei vulcani che si formano, a causa della presenza del magma, nella zona in cui la placca va in subduzione nello scontro fra due placche. E quindi vedete che abbiamo un ciclo sostanzialmente di rimozione della lide carbonica dall'atmosfera, e di reimmissione per vulcani o per faglie nell'atmosfera. Questo ciclo è quello che scambia questi 0,5 petagrammi di carbonio per anno e molto lento come ciclo e sul lungo periodo è bilanciato, ma possono esserci degli squilibri. Se per qualche motivo vince l'alterazione delle rocce superficiali, avremo condizioni climatiche che vanno verso il freddo, con temperature più basse. Mentre invece se per qualche motivo si ha un vulcanismo più forte, con emissione di grandi quantità di CO2, avremo un effetto serra più forte, quindi un aumento delle temperature. In realtà anche qui c'è un feedback interessante, perché è un feedback che stabilizza, feedback negativo o stabilizzante, perché i processi di alterazione delle rocce superficiali dipendono dalla temperatura. Quindi la rimozione di CO2 dall'atmosfera è tanto più efficace per i processi di alterazione, è tanto più efficace quanto più alte sono le temperature. Quindi vedete bene che se i vulcani a un certo punto buttano più CO2, la temperatura aumenta, l'alterazione diventa più veloce e quindi più CO2 viene rimossa. Nello stesso tempo se i vulcani per qualche motivo emettessero meno CO2, l'alterazione delle rocce superficiali rallenta, perché la temperatura diventa più bassa e quindi ne viene estratta meno dall'atmosfera. Non è un feedback completo, chiuso, perché non si torna alla temperatura di prima, ma è un effetto calmierante dell'alterazione sui vulcani. C'è molta discussione se anche l'attività vulcanica possa dipendere in realtà dall'alterazione attraverso, tra le altre cose, il peso dei carbonati, ma questo è molto più oggetto di discussione molto aperta. Invece il fatto che il processo di alterazione dipenda dalla temperatura, ancora questo è noto e sono anche processi che vengono accelerati dalla presenza degli organismi viventi, delle piante, dei batteri. E poi abbiamo il ciclo biologico, invece, che è completamente, è molto più veloce e riguarda sostanzialmente il suolo, la parte superficiale, 10-100 metri di suolo, e sto parlando della parte terrestre, poi se no c'è anche la parte marina, ovviamente, e la vegetazione e l'atmosfera. E qui abbiamo due processi competitivi, essenzialmente la fotosintesi, la fotosintesi aerobica è quella che domina in questo momento la produttività primaria degli ecosistemi ed è basata sull'assorbimento di CO2 dell'atmosfera. Quindi più fotosintesi vuol dire più assorbimento di anidride carbonica. E poi ci sono i processi invece di respirazione sia delle piante, perché le piante continuano comunque a respirare e noi lo vediamo diciamo particolarmente durante la notte perché la fotosintesi si arresta, ma la respirazione c'è anche durante il giorno, e la respirazione del suolo, cosiddetta, cioè tutta l'attività batterica che porta tutto questo a emissioni di CO2, a volte anche di metano, ma essenzialmente di CO2. E tutti i processi di decomposizione anche a opera dei batteri che sono sorgenti di CO2. Quindi qui l'equilibrio è fra la fotosintesi, che assorbe e la respirazione e la decomposizione, la respirazione del suolo che emettono CO2. Tant'è che se noi andiamo a studiare la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera, vediamo che, e lo vedremo lunedì, ha un'oscillazione annuale con un picco sostanzialmente, dovunque la misuriamo, è un picco più o meno alla fine dell'inverno e un minimo alla fine dell'estate dell'emisfero nord. Perché durante l'estate e la stagione di crescita la fotosintesi domina sulla respirazione e quindi il sistema assorbe CO2 dall'atmosfera, l'ecosistema, la biosfera. Mentre invece nell'inverno la respirazione domina sulla fotosintesi e la biosfera tende a restituire la CO2, l'anidride carbonica, all'atmosfera. Perché non si compensano i contributi dell'emisfero nord e dell'emisfero sud? Perché la maggior parte delle terre emerse è nell'emisfero nord e quindi il segnale rimane, cioè in parte compensato da ciò che avviene nell'emisfero sud, ma le terre emerse sono meno e quindi il grosso del segnale viene dall'emisfero nord e quindi il segnale che si vede è quello dell'estate e dell'inverno dell'emisfero nord. Naturalmente c'è anche l'ecosistema marino di cui, diciamo, qui non ho messo un'immagine, ma qui l'ecosistema marino e la produttività primaria è dominata grandemente dal planton, dal fitoplancton, quindi dalle alghe fondamentalmente e la respirazione sia delle alghe sia soprattutto poi anche di tutta la parte animale, zooplankton, per esempio, e anche qui c'è un equilibrio fra assorbimento di CO2 ed emissioni di CO2 e più o meno, se torniamo indietro, più o meno quei 200 miliardi di tonnellate si dividono abbastanza equamente fra il contributo marino e il contributo terrestre. Allora, con questi strumenti cerchiamo di andare prima a scoprire quali sono state le fluttuazioni climatiche del nostro pianeta e anche cercare di capire perché, che cose le ha guidate. La Terra ha un'età di circa 4 miliardi e mezzo di anni, sostanzialmente l'età del Sistema Solare e si è formata probabilmente non troppo distante da dove è adesso ed è un pianeta roccioso nel senso che ha una grande componente di silicati e anche dell'acqua. L'acqua in realtà è molto più abbondante nei pianeti esterni del Sistema Solare, cioè c'è molta di più per unità di massa nei pianeti esterni a partire da Giove in poi e nei satelliti di questi grandi pianeti. I pianeti interni hanno in generale meno acqua ma la Terra comunque ne ha abbastanza. Poi c'è tutta una bellissima discussione su da dove venga l'acqua della Terra. Se venga dalle comete che sono parte di ghiaccio fondamentalmente se venga invece da degassing interno cioè il degassamento interno e probabilmente viene un po' da uno e un po' dall'altro. Dove si è formata la Terra? Probabilmente in una nube cioè dove si è formato il Sistema Solare in una nube molecolare gigante questa è una fotografia di Hubble ovviamente non si è formata lì e questa è una cosa che stiamo vedendo adesso ma probabilmente qualcosa di questo genere una cosiddetta fabbrica di stelle fucina di stelle e in queste nubi molecolari si formano delle stelle giovani con il loro disco di accrezione intorno fatto essenzialmente di idrogeno ma anche di polveri. Le due immagini in bianco e nero sono simulazioni fatte al calcolatore della dinamica di un disco che sta intorno a una stella giovane con dei vortici che si formano e con la polvere che si aggrega nei vortici l'immagine a destra in rosso è invece una fotografia vera di uno di questi dischi dell'osservatorio ALMA non si vedono dei vortici si vedono però delle zone più scure è un ambito di ricerca attualmente molto attivo e in questa piano piano il gas a un certo punto verrà spazzato via si condensa è un processo complicatissimo già studiato a partire da Kant e poi da tutta una serie di ricercatori e quello che succede è che a un certo punto si è formato circa 4 miliardi e mezzo di fa appunto per un processo che va dalla aggregazione alla coalescenza alla collisione questo pianeta che era in un periodo detto adeano perché effettivamente doveva essere un mondo abbastanza impossibile con un bombardamento continuo di pezzi di altri voli di celesti che si stavano scontrando e aggregando a volte con una con urti estremamente forti si pensa a un urto per esempio con un pianetino più o meno grande come Marte che dovrebbe aver formato la Luna cioè ha fatto una collisione con la Terra questo pianetino chiamato Teia e dovrebbe avere buttato fuori una serie di residui intorno alla Terra che poi si sono condensati nella Luna che è una composizione simile alla parte esterna della Terra non alla parte interna però ovviamente tutto questo viene da indizi estremamente indiretti simulazioni numeriche e indizi anche sulla composizione isotopica delle rocce della Luna cosa che è stato possibile analizzare solo dopo che le rocce sono tornate grazie alle missioni spaziali sulla Luna e infatti adesso poi i geologi sono in attesa gli astrogeologi sono in attesa delle rocce di ritorno da Marte e poi lentamente questo mondo così violento si è raffreddato e quasi subito più di 3 miliardi e mezzo di anni fa cioè il raffreddamento è avvenuto circa 4 miliardi di anni fa ma più di 3 miliardi e mezzo di anni fa ci sono già le prime evidenze fossili di organismi unicellulari molte evidenze fossili diversi dalle stromatoliti ma anche proprio a evidenze biochimiche non facili da trovare ci sono sulla terra in alcune zone in Australia in Alesvalbard e in altri posti delle rocce antichissime che non sono state riciclate nel mantello e quindi possono essere analizzate e ecco insomma ogni anno c'è una dichiarazione di un organismo un po' più antico ma ecco oltre di 3 miliardi e 7 in qualche modo si entra nell'ambito delle evidenze non così certe i tre rami principali della vita sono importanti a ricordare i batteri gli archaea e gli eucarioti batteri e archaea sono tutti e due essenzialmente unicellulari gli eucarioti che si sono evoluti dagli archaea sono organismi che hanno cellule con il nucleo separato e hanno poi dato origine a tutti gli animali che conosciamo ma il mondo è dominato da batteri archaea cioè se togliamo elefanti delfini leoni esseri umani il mondo va avanti lo stesso se dovessimo togliere i batteri il mondo diventerebbe completamente diverso rispetto a come lo conosciamo oggi e dopodiché la vita è diventata la cosa interessante che ha preso sostanzialmente il sopravvento ovunque passato il primo periodo e l'origine della vita sulla terra è un altro problema scientifico affascinante su cui si fanno tantissimi aumenti di conoscenze ma manca ancora il passaggio dalle macromolecole organiche alla cellula funzionante nessuno ha ancora capito come si passa da un mondo che ne so tipo RNA a una cellula funzionale funzionante comunque quasi immediatamente la vita è andata ovunque e si vede che c'è ecco perché la ricerca della vita su Marte per esempio è probabilmente una ricerca di vita fossile può darsi che ci siano degli organismi che sopravvivono malamente da qualche parte o può darsi che non sopravvivono malamente ma comunque è chiaro che non c'è una vita rigogliosa come quella che vediamo sulla terra cioè non c'è nessun posto sulla terra dove non ci siano dei batteri per esempio e allora com'era il mondo di quel periodo di quella di quel leone chiamato archeano fra 4 miliardi di anni fa e 2 miliardi e mezzo di anni fa le temperature erano alte non altissime è molto difficile stimarle ma le stime ma le stime variano fra i 30 e i 60 70 gradi centigrani caldo molto caldo per noi ma non non era un mondo bollente l'atmosfera però era completamente diversa rispetto a oggi ed era un'atmosfera che per per molto tempo si è pensato fosse riducente mentre invece probabilmente lo è molto meno di quello che si pensava l'esperimento di Jury e Miller che partiva dall'atmosfera riducente probabilmente all'epoca è stato un esperimento cruciale importantissimo però non era così ricca di gas riducenti era probabilmente molto ricca di energia carbonica di azoto di ossido di zolfo di acqua e quindi l'atmosfera assolutamente priva di ossigeno e quindi era un mondo in cui anche gli oceani erano anossici ed erano ecosistemi che diciamo organismi in grado di utilizzare il ferro e lo zolfo quindi era la chimica del ferro e dello zolfo e la fotosintesi c'era già probabilmente abbastanza presto dovrebbe essere apparsa la fotosintesi ma era una fotosintesi anaerobica cioè una fotosintesi che non produceva ossigeno come materiale di scarto poi è successo qualche cosa ed è forse uno degli eventi più rilevanti nella storia della Terra cioè 2 miliardi e 4 2 miliardi e 400 milioni di anni fa è apparso l'ossigeno nell'atmosfera ha cominciato era a circa l'1% del livello attuale ma ha cominciato a essere presente l'ossigeno in atmosfera e questo ha cambiato le cose completamente anche solo un 1% rispetto a oggi ha cambiato le cose perché l'ossigeno è un gas estremamente reattivo è un gas velenoso è un gas ossidante per l'appunto quindi gli organismi biologici hanno dovuto adattarsi evolversi e diventare capaci di respirare ossigeno ma perché c'è stato questo cambiamento cosa è successo e beh c'è molta discussione su cosa è successo perché la versione originale era sono apparsi i cianobatteri capaci di fare fotosintesi aerobica cioè una fotosintesi nuova più efficiente rispetto a quella anaerobica che mette come materiale di scarto l'ossigeno e quindi hanno sostituito i batteri in grado di fare fotosintesi anaerobica perché erano più efficienti i cianobatteri e intanto però hanno inquinato nella prima catastrofe ecologica del nostro pianeta l'atmosfera ora è una visione affascinante ma cozza contro alcune evidenze cioè che c'erano già cianobatteri parecchie centinaia di milioni di anni prima della comparsa dell'ossigeno e quindi boh allora sembra effettivamente che ci siano stati due effetti concomitanti i cianobatteri hanno cominciato a produrre l'ossigeno su questo non ci piove ma non è stato solo l'ossigeno lasciato in atmosfera perché le emissioni vulcaniche all'epoca il mantello terrestre all'epoca era fortemente riducente quindi le emissioni vulcaniche erano fortemente riducenti quindi rimuovevano l'ossigeno ma a forza di fare diciamo generare ossigeno creare ossigeno nei sedimenti cioè sedimenti ossidati e non sedimenti senza ossigeno i quali poi venivano portati dalla subduzione nel mantello potrebbe avere modificato lo stato redox quindi la capacità di riduzione del mantello e quindi lentamente anche le emissioni vulcaniche sono cambiate e sono diventate meno riducenti e quindi queste due cose insieme la produzione da parte dei cianobatteri e l'inquinamento del mantello superiore con l'ossigeno e quindi la riduzione dell'effetto riducente del mantello delle emissioni vulcaniche potrebbe aver permesso all'ossigeno di accumularsi è un argomento di ricerca apertissimo in questo momento in cui si sta cercando di capire perché intorno a questo periodo 2 miliardi e 400 miliardi di anni fa contemporaneamente appare l'ossigeno la tettonica placca diventa più strutturata il mantello cambia stato redox insomma ci sono tutta una serie di eventi cruciali nella vita di un pianeta che capitano più o meno nello stesso periodo e questo è interessante non solo per capire cosa è successo a casa nostra ma anche per capire cosa può succedere cosa è successo su altri pianeti su altri pianeti anche non del sistema solare cioè migliaia di pianeti di esopianeti rocciosi che si stanno scoprendo la presenza di ossigeno ossidava il ferro il ferro era in uno stato ionico in cui poteva stare disciolto e invece ossidandolo diventa insolubile e lo fa precipitare nel sedimento e quindi nelle rocce datate 2 miliardi e 400 milioni di anni fa 2 miliardi e 300 2 miliardi e 200 si vedono queste che vedete rossicce sulla destra le bande di iron formation cioè queste bande di strati fortemente ossidati e strati non ossidati che sono dovute al fatto che ci sono state emissioni di ossigeno nei mari e con la conseguente precipitato degli ossidi di ferro perché sono a bande e questo è anche un altro problema interessante perché possono essere a bande perché l'ecosistema ha avuto un'oscillazione uno stato oscillatorio arrivava all'ossigeno precipitava lentamente si riformava del ferro e quindi una dinamica oscillante dell'ecosistema che ha generato queste bande di iron formation oppure potrebbero anche essere in effetti degli spostamenti degli ossidi di ferro dopo la deposizione cioè nei processi successivi metamorfici nei processi di alterazione successiva di quindi un trasferimento un spostamento diciamo differenziale fra la parte ferrosa e la parte non ferrosa un'altra cosa che ha comportato la presenza dell'ossigeno è che le acque diventavano ricche di ossigeno e quindi quando queste acque circolavano nella parte superficiale della crosta portavano molto ossigeno e permettevano una serie di reazioni chimiche assolutamente impossibili senza la presenza dell'ossigeno e quindi si sono creati tantissimi nuovi minerali questo è un opale minerali che devono la loro esistenza la terra ha una grande ricchezza di diversità di minerali e questi devono molti di questi devono resistenza al fatto che c'è ossigeno c'è stato l'ossigeno nell'atmosfera l'ossigeno nell'atmosfera c'era perché c'era la biosfera e quindi possiamo anche dire che buona parte della diversità dei minerali potrebbe avere una origine lontana nel fatto che i cianobatteri producevano ossigeno attraverso la fotosintesi con rubisco che è l'enzima della fotosintesi la presenza di ossigeno nell'atmosfera non ha solo creato problemi agli organismi anaerobici che sono stati poi sempre più confinati a nicchie ancora oggi ci sono organismi anaerobici ma sono confinati in ecosistemi molto particolari molto di nicchia nell'atmosfera di due miliardi e mezzo di anni fa c'era comunque anche del metano prodotto in gran parte in parte dalle eruzioni vulcaniche in parte dalle emissioni degli organismi viventi e il metano ha un effetto serra poderoso molto più forte di quello dell'anidride carbonica quindi un po' più di metano un po' tanto più di metano in atmosfera portava a un effetto serra molto intenso ma il metano viene si combina molto facilmente con l'ossigeno quindi il metano può stare in atmosfera tranquillo se non c'è ossigeno se c'è ossigeno si combina e viene fuori CO2 e acqua e quindi la presenza di ossigeno in atmosfera ha portato sostanzialmente alla distruzione del metano e la terra apparentemente per la prima volta è precipitata in uno stato cosiddetto a palla di neve la snowball di cui venne già parlato ieri ma la prima evidenza di uno snowball si ha con la cosiddetta glaciazione uroniana perché è stata scoperta nelle rocce analizzate in Canada che potrebbe essere proprio stata indescata da questo precipitoso diminuire del metano in atmosfera e quindi dalla riduzione relativamente rapida dell'effetto serra dovuto al metano in quel periodo fra 2 miliardi e mezzo di anni e 500 milioni di anni fa circa la terra ha avuto varie vicissitudini soprattutto di tipo geologico da un punto di vista climatico è stato boring infatti a volte viene chiamato il boring billion il miliardo di anni noioso ma con una ultima oscillazione fortissima una nuova snowball che è quella che conosciamo meglio perché quelli di 2 miliardi e mezzo di anni fa ci sono evidenze solo molto sparse invece quella di circa 600 milioni di anni fa l'ultimo snowball è stato studiato e misurato trovato diciamo evidenze in molte rocce in molte zone diverse della terra è chiaro che i continenti erano messi in modo diverso rispetto oggi ma si può ricostruire da dove venivano i continenti soprattutto in base al campo magnetico rimasto congelato nella roccia e quindi l'ultimo snowball quello più noto è quello di 600 milioni di anni fa perché è capitato questo secondo snowball e di nuovo ci può dire qualcosa sul sul cosa diciamo cosa cosa come funziona il clima beh probabilmente sono stati due motivi diversi per caso c'era un continente un unico grande continente chiamato Rodinia che per il gioco della tettonica a placche stava in quel periodo prima dello snowball all'equatore e allora all'equatore capitano due cose prima di tutto la vita sulla terraferma non c'era ancora se non sotto forma di licheni non c'era non c'era la vegetazione c'era qualche lichene qualche batterio ovunque che sono dovunque ma quindi i continenti erano erano chiari erano soprattutto di granito o di sabbia di granito quindi molto chiari quindi con un albedo molto alta quando i continenti vanno a finire sull'equatore e beh allora se hanno un albedo alta sull'equatore arriva la maggior parte della luce sappiamo della raddrizione solare la riflettono e vuol dire che l'effetto è forte di riflessione la seconda cosa è che i continenti sono soggetti a processi di alterazione e questi dipendono dalla temperatura quindi se ho un grande continente che finisce sull'equatore i processi di alterazione saranno più forti a completare il quadro e quindi di rimozione di anidride carbonica dall'atmosfera a completare il quadro il continente Rodinia si stava il supercontinente Rodinia si stava frammentando e quindi c'erano molte zone di acqua bassa di piattaforma continentale intorno dove tutti i carbonati il carbonio strappato dai continenti dall'alterazione poteva essere utilizzato gli organismi marini e poi cadere nelle zone formando i carbonati e quindi buttiamo via dell'energia solare della radiazione solare con la riflessione tiriamo via della CO2 dall'atmosfera con il weathering con l'alterazione delle rocce e buttiamolo in carbonati che finiscono sotto nel sottosuolo il pianeta è andato a finire nello stato di snowball e beh poteva anche rimanerci no? cioè questo è una delle possibili catastrofi di un pianeta ma abbiamo la dinamica interna e la dinamica interna la subduzione e il trasferimento di calore dal mantello i vulcani hanno continuato la loro azione a buttare CO2 in atmosfera e buttare CO2 in atmosfera con il fatto che non c'era alterazione perché era tutto coperto di ghiacci o quasi forse c'era un piccolo canale diciamo equatoriale ancora aperto ma era quasi tutto coperto di ghiacci alterazione molto molto bassa la CO2 si è accumulata in atmosfera ha raggiunto livelli molto alti molto più alti di quello che sarebbe stato successivamente e affinché c'è stata una deglaciazione esplosiva con rilascio di grandi quantità di nutrienti negli oceani con condizioni tropicali su tutto il pianeta e una botta di vita insomma per il pianeta dopo questo lungo inverno ghiacciato ed è stata davvero una botta di vita perché dopo che lo snowball si è fuso abbiamo avuto le grandi esplosioni evolutive che un geobiologo Andrew Knoll chiama diciamo ecologia permissiva nel senso che in generale gli organismi fanno fatica a evolversi cioè è difficile che nuove forme riescano a stabilirsi perché già tutte le nicchie ecologiche sono occupate mentre invece nel caso in cui uno snobolo abbia sterminato una buona parte degli organismi viventi ci sono un sacco di nicchie ecologiche disponibili in più la fusione dei ghiacci ha rilasciato enormi quantità di nutrienti quindi non c'è nessuno c'è un sacco da mangiare l'evoluzione è stata rapidissima una prima esplosione evolutiva con la cosiddetta fauna di Ediacara cosiddetta esplosione di Avalon dalla isola canadese dove sono stati trovati i primi fossili con una fauna assolutamente inverosimile per noi diversissima da quello che sarebbe venuto dopo tant'è che è sparita non ha lasciato tracce forse per processi forse per processi vulcanici forse per impatto di asteroidi forse chi lo sa comunque è sparita e poco dopo c'è stata la seconda esplosione che poi ha dato origine al mondo come lo conosciamo oggi che è l'esplosione cambriana all'inizio con organismi anche questi abbastanza pittoreschi perché l'evoluzione esplorava tutte le possibilità super predatori che avevano le zampe attaccate alla bocca altri che avevano cinque occhi il libro di Stephen Jay Gold che in italiano è tradotto come la vita meravigliosa parla proprio dell'esplosione cambriana e di questi animali che poi diciamo alcune linee si sono estinte ma sostanzialmente dall'esplosione cambriana sono poi emersi gli animali che oggi popolano la terra quindi inclusi noi stessi lì in alto c'è un trilobite che invece poi si è estinto ma sono durati per molto tempo allora andiamo a vedere negli ultimi 500 milioni di anni abbiamo avuto oscillazioni climatiche tra caldo e freddo ricostruite in generale con i rapporti isotopici da nel nei sedimenti marini profondi perché per esempio l'evaporazione distingue tra ossigeno 18 e ossigeno 16 e quindi il mare diventa più ricco di ossigeno 18 in certe condizioni mentre invece diventa meno ricco di ossigeno 18 in altre condizioni quali sono queste condizioni se ho del freddo fondamentalmente è più favorita l'evaporazione dell'ossigeno 16 che più leggero mentre più è caldo meno distinzione viene diciamo l'energia cinetica è abbastanza forte da fare meno distinzione tra il 18 e il 16 e quindi ho più ossigeno 18 se è più freddo e quindi abbiamo avuto queste oscillazioni con periodi glaciali che però non sono più stati così estesi e così con copertura globale come lo snowball per tanti motivi perché non ci sono più stati continenti supercontinenti sull'equatore e perché la vita vegetale è arrivata sulla terraferma e arrivando sulla terraferma ha cominciato a modificare i processi i feedback cambiare l'albedo e quindi diciamo a controllare in modo diverso la dinamica della superficie dei continenti a noi però adesso interessano particolarmente gli ultimi 60 milioni di anni perché ci avviciniamo sempre di più al nostro mondo e andiamo a vedere questa curva qui il tempo di nuovo scorre da destra verso sinistra e questa è la cosiddetta curva di ZACOS dal ricercatore che ha guidato il team che ha ricostruito questa curva essenzialmente di nuovo dall'ossigeno 18 e da altri isotopi anche il deuterio per esempio viene utilizzato o altri isotopi questi in questo caso nei sedimenti marini e di profondità e quello che vedete è una vedete diverse cose è molto difficile passare da una stima dell'ossigeno 18 di come variato l'ossigeno 18 alle temperature anche perché è un misto in realtà di temperature e di quantità di ghiacci ma vedete subito che intorno a 50 milioni di anni fa un periodo detto eocene la temperatura media della terra poteva essere anche di 10 gradi o forse più rispetto a oggi cioè la terra era molto più calda non c'erano ghiacci neppure ai poli era un mondo molto diverso da quello attuale poi vedete lì una piccola un piccolo sbuffo di caldo che è chiamato PTM paleosin eosin thermal maximum cioè il massimo termico al confine tra il paleocene e leocene ma di questo parliamo fra un minuto però il mondo delle oceane cioè intorno a 50 milioni di anni fa era un mondo dove c'erano i coccodrilli ai poli gli alligatori ai poli sono stati trovati fossili gli alligatori ed è un mondo interessante perché è un po' l'incubo del cambiamento globale e soprattutto se noi andiamo a vedere questa curva questa curva ricostruisce quelle che possono essere le temperature medie di quel mondo e sono le due curve colorate guardate soprattutto quella gialla rispetto a oggi questa è la temperatura in funzione della latitudine la temperatura media in funzione della latitudine la temperatura è più bassa ai poli è più alta all'equatore ma quello che vedete è che nelle oceane era molto più piatta cioè l'equatore era un po' più caldo di oggi qui forse fin eccessivo questo poi ci sono altri dati successivi però era più caldo di oggi ma i poli erano molto più caldi di oggi quindi il gradiente di temperatura fra la differenza di temperatura fra equatore e poli era molto minore rispetto a oggi quindi era un mondo cosiddetto equable cioè un mondo più equilibrato più egalitario in cui non c'era tutta questa differenza di temperatura tra poli ed equatore questa era la grande caratteristica di quei momenti di clima molto caldo intorno alle oceane i livelli di CO2 erano molto alti erano più di mille parti per milione quindi più di due volte quasi tre volte quelle di oggi attenzione però non cento volte quelle di oggi tre volte quelle di oggi ora se pensiamo che siamo cresciuti da 280 a 420 quasi nel giro di 100 anni capite bene che se continuiamo allegramente e andiamo a mille ppm magari possiamo innescare dei processi simili a quelli delle oceane non tornare in quelle condizioni ma comunque innescare dei processi simili e la domanda che ci possiamo porre è perché ci fosse questa grossa differenza rispetto a oggi cioè una minore differenza di temperatura fra Poli ed Equatore rispetto a oggi che invece è molto più marcata e ci sono diverse proposte una è che fosse un maggiore trasporto dall'Equatore abbiamo visto i meccanismi di trasporto una circolazione i venti più forti una circolazione più vivace in realtà non è così ovvio tutte le proposte che sono state fatte non sono sopravvissute molto bene a una verifica non solo dei dati ma anche proprio dei meccanismi perché in qualche modo il trasporto dipende dalla differenza di temperatura è più forte quanto più forte la differenza di temperatura se c'è un trasporto forte cerca questo tende a ugualizzare le temperature ma allora come feedback c'è che diminuisce il trasporto e quindi non è così ovvio che ci siano dei meccanismi in grado di andare diciamo a trasportare anche se la differenza di temperature è bassa l'altra possibilità che è particolarmente interessante è che ci fossero dato che il riscaldamento è soprattutto ai poli che ci fossero delle nuvi polari molto più vivaci e molto più dense e diffuse di quelle che abbiamo oggi sia in troposfera sia in stratosfera questo perché con i mari completamente liberi di ghiaccio c'era molta più evaporazione anche i poli con temperature molto più alte quindi la formazione di grandi nubi molto di più rispetto oggi ora le nubi abbiamo detto hanno anche un effetto albedo ma al polo per sei mesi fa notte quindi dell'albedo non può importare di meno e quindi rimane solo l'effetto serra allora oggi la spiegazione più promettente è quella di un cambiamento completo nella nuvolosità polare sia in troposfera che in stratosfera e quindi una possibile motivazione di questo differenza rispetto alla situazione odierna e poi tutto un mondo più caldo perché c'era molte più CO2 era stata emessa portata molta molta più CO2 cosa è successo nel PDM beh allora parliamo di hyperthermas cioè momenti in cui la temperatura è altissima sono momenti relativamente veloci nel nel panorama geologico dell'evoluzione del clima il più famoso appunto è questo PDM cosa è successo ma è molto probabile che in quel periodo diciamo più che probabile nel senso che evidenze geologiche ci sono l'Atlantico esisteva già ma si stava allargando e ci sono state delle fortissime eruzioni vulcaniche prolungate dovute a super vulcani quindi eruzioni che hanno buttato fuori un'enorme quantità di CO2 era uno sbilanciamento temporaneo in cui più CO2 veniva buttata fuori dai vulcani rispetto a quella che veniva eliminata dall'alterazione delle rocce e questo ha portato a delle temperature più alte ma da sola la quantità di CO2 emessa dai vulcani non basta deve esserci qualche cos'altro e le due ipotesi più promettenti sono legate al permafrost e ai clatrati sotto il mare e anche ai poli è vero che ai poli del mondo delle oceane non c'erano ghiacciai ma c'era permafrost c'era suolo ghiacciato sotto il suolo ghiacciato ma comunque ai poli poteva nel sotto il suolo ghiacciare e se il permafrost si scongela il permafrost contiene molta sostanza organica congelata e nel momento in cui si scongela i batteri cominciano ad andare a nozze e producono enormi quantità di gas serra un po' come lasciare un freezer staccarlo con il cibo dentro e quindi prima cosa questa immagine che vedete da in alto a destra della Siberia è un invece attuale è un grande buco che si forma nella tundra siberiana e uno dei motivi è proprio il rilascio di grandi bolli di metano dal permafrost che si sta scongelando l'altra componente forse ancora più importante nelle Oceane è che c'erano degli idrati di di metano chiamati a volte clatrati che sono delle strutture di ghiaccio ma strutture cristalline in cui l'acqua ha dentro intrappola dentro delle molecole per esempio di metano e ce ne sono anche oggi e stanno sono stabilizzati dalle basse temperature e dall'alta pressione quindi si stanno in fondo al mare nei sedimenti sotto il mare e se la temperatura aumenta l'idrato diventa instabile e rilascia metano questo viene chiamato il ghiaccio che brucia vedete la fotografia a destra è un pezzo di idrato di metano di tratrato che sembra ghiaccio ma se gli date fuoco se avvicinate una fiammella prende fuoco perché è il metano che brucia ecco è probabile che le eruzioni vulcaniche siano state amplificate enormemente da questi processi sono processi estremi però voglio solo ricordare alcune cose che sono processi attivi anche oggi cioè quella bolla che ha fatto il buco in Siberia e ce ne sono tanti di questi crateri e beh sta avvenendo oggi quindi la destabilizzazione del permafrost è uno delle possibili meccanismi di amplificazione veloce del cambiamento climatico attuale e la quantità di anidride carbonica buttata in aria da queste eruzioni vulcaniche non è troppo dissimile dal rateo di emissione umano dovuto alle attività antropiche degli ultimi cento anni certo è durato per molto più tempo ma diciamo noi agiamo quasi come un super vulcano abbiamo agito per cento anni però se continuiamo a agire per per molti decine di anni in qualche modo abbiamo una capacità emissiva analoga l'altra cosa è che ho detto che sono episodi molto rapidi ma facendo i conti la rapidità di emissione di CO2 e di aumento delle temperature all'inizio del PTM è comunque da 5 a 10 volte più lenta dell'aumento delle temperature attuali noi abbiamo una temperatura che è aumentata di un grado in cento anni lì tipicamente si parla di un grado ogni 800 mille anni e quindi vedete che è molto più lento poi noi lo vediamo un picco perché chiaramente vediamo un picco qui perché la scala è quella dei milioni di anni ma sono comunque processi più lenti quindi non è tanto la temperatura assoluta che abbiamo raggiunto o che raggiungeremo quanto la velocità del cambiamento l'altra l'altra osservazione che volevo fare è che anche diciamo un super vulcano attivo attualmente quello di Yellowstone in Valsesia in nord Italia diciamo nella zona in parte nord del Piemonte c'è un super vulcano estinto bellissimo da visitare perché è un super vulcano che durante la formazione delle Alpi è stato estratto e piegato e quindi adesso sta in orizzontale e uno può camminare dalla caldera del super vulcano fino alla camera magmatica profonda facendo diciamo un giro di 20 30 chilometri riesce a vedere la sezione di questo super vulcano attualmente c'è un super vulcano invece attivo che è molto pericoloso che non è il Vesuvio ma è il Campi di Flegrei che sono a tutti gli effetti un super vulcano attivo l'esempio di Venere ci sono evidenze che Venere avesse una temperatura superficiale moderata e condizioni diciamo di tipo tropicale fino a probabilmente un po' più di un miliardo di anni fa dove è possibile che si sia innescata una serie di mega eruzioni vulcaniche per una instabilità del mantello che ha aumentato grandemente la carbonica atmosferica portando a quello che si chiama appunto un effetto serra runaway cioè la temperatura aumenta l'acqua evapora fa aumentare la temperatura e si va verso appunto quelle centinaia di gradi in superficie come è successo su Venere la terra è molto lontana da quello però è interessante capire che l'interazione fra vulcani e alterazione delle rocce superficiali gioca un ruolo climatico estremamente importante allora dicevo che dopo quegli episodi sia diciamo che è durato molto delle oceane ma anche il PTM questo hyperthermal il pianeta ha cominciato a raffreddarsi ha cominciato a raffreddarsi essenzialmente perché la quantità la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera ha cominciato a diminuire da quei mille mille cinquecento parti per milione che c'erano durante le oceane ha cominciato a diminuire perché ha cominciato a diminuire diciamo ormai è abbastanza evidente che il motivo principale è stato appunto questa diminuzione di anidride carbonica ma tra il resto faccio un inciso intorno un po' prima del PTM c'è stato anche l'impatto dell'asteroide che ha creato lo strato di iridio in tutto il mondo e visibile per esempio alla gola del bottaccione vicino a Gubbio in realtà è lì che è stato scoperto per la prima volta questo strato di Degli Alvarez padre figlio e padre Nobel per la fisica e figlio geologo che ha portato poi probabilmente a una serie di eruzioni vulcaniche e alla scomparsa dei dinosauri però ecco non ha lasciato un segnale climatico di lungo periodo ha lasciato probabilmente un segnale climatico molto forte su periodi di 10 20 anni probabilmente con una specie d'inverno prolungato dovuto al fatto che sono state emesse molte polveri in atmosfera ma non si vede dalla curva un segnale particolarmente prolungato invece dicevamo a partire da 50 milioni di anni fa la temperatura comincia a scendere perché comincia a scendere la concentrazione di anidride carbonica e perché comincia a scendere la concentrazione di carbonica per due motivi uno e il motivo principale è che si è formato l'Himalaya allora in quel periodo la zolla indiana ha terminato il suo viaggio nell'oceano e si è scontrata con la zolla eurasiatica e questo scontro ha ovviamente a rallentatore ha portato alla formazione della catena himalayana che è una catena rilevante nel panorama geografico e geomorfologico della Terra soprattutto c'è una zona molto alta ed estesa che è il Tibet e poi una zona molto corrugata tutto questo ha portato a modifiche nella circolazione atmosferica perché si è trovata improvvisamente un ostacolo quindi modifiche nel Monsone ha modificato completamente la circolazione dell'emisfero nord ma non basta la cosa principale è che ha modificato ha reso disponibile una nuova superficie fresca appunto formata da queste nuove montagne che si erano formate all'erosione all'alterazione e quindi c'è stato un aumento dell'alterazione delle rocce superficiali la geologa e climatologa Maureen Raimo ha mostrato oltretutto che nell'alterazione conta certamente la temperatura e l'Himalaya relativamente in basso ma soprattutto c'entra anche il rilievo quanto è irregolare il rilievo il corrugamento e l'Himalaya in questo non è battuto da nessuno e quindi è probabile che ciò che vediamo qui sia stato generato soprattutto la diminuzione di anidride carbonica sia stata generata soprattutto da un aumento dei processi di alterazione delle rocce superficiali nella zona himalayana in realtà un lavoro più recente di un gruppo di climatologi fra cui Claudia Pasquero dell'Università di Milano Bicocca ha mostrato che c'è stata in concomitanza probabilmente anche una diminuzione dell'attività vulcanica e quindi le due cose vanno nel senso di portare a una diminuzione della CO2 e quindi una diminuzione delle temperature e in generale possiamo dire che su le variazioni lente quasi sempre hanno un'origine geologica mentre le variazioni veloci tipo quella del PTM o altre che vedremo possono avere un'origine geologica ma poi diciamo entrano in gioco altri meccanismi altri processi di feedback che sono non strettamente geologici durante questo processo di raffreddamento c'è stato un periodo particolarmente interessante fra l'eocene e l'oligocene dove vedete quel cerchietto blu una brusca diminuzione brusca di nuovo su tempi geologici diminuzione di temperatura questa diminuzione di temperatura in realtà è stata associata si è capito che è legata alla formazione della calotta antartica l'antartide era in quella regione isolata sia da un vortice polare sia dalla corrente circumpolare e la diminuzione di temperatura a un certo punto ha permesso la formazione di ghiacci prima nella calotta orientale antartica poi nella calotta occidentale che è quella più instabile ma lì si è passati dai ghiacciai sparsi che avevano cominciato a formarsi a una calotta glaciale vera e propria la quale poi per Albedo ha ulteriormente favorito la sua stessa permanenza insomma la sua stessa riflettendo la luce solare rendeva il clima di quella regione ancora più freddo e quindi quello che abbiamo visto qui appunto è legato a una formazione di una calotta glaciale antartica mentre quella invece groenlandese si è formata poi molto più tardi allora andiamo adesso a tempi ancora più vicini a noi cioè gli ultimi 3 milioni di anni circa 3 milioni di anni di anni fa e qui andiamo in questo ultimo periodo che vedete che vedete qui in bianco vicino vicino allo zero e e è successo qualche cosa di nuovo il sistema climatico è andato appunto via via raffreddandosi e a un certo punto è entrato in una situazione oscillatoria ha cominciato a oscillare fra periodi glaciali freddi coperti di ghiaccio e almeno nelle alte latitudini e periodi interglaciali più caldi e con meno ghiaccio e questo è capitato circa 3 milioni di anni fa ricordo che la concentrazione di CO2 subito prima di questo innesco era di poco più di 400 diciamo 400 e 500 parti per milione quindi non troppo diversa da quella che abbiamo oggi e anche le condizioni diciamo della disposizione dei continenti relativamente simili allora 3 milioni di anni fa comincia questo comportamento oscillatorio che vedete qui questo per gli ultimi 800 mila anni tra il resto è interessante perché fino a un diciamo fino a un certo momento intorno 800 mila o un milione di anni fa il periodo dominante era di 40 mila anni mentre invece negli ultimi 800 mila anni il periodo dominante è di 100 mila anni cioè sono oscillazioni relativamente regolari e caratterizzate da dunque qui il caldo appunto sta in alto e il freddo sta in basso quindi il tempo scorre da destra verso sinistra oggi siamo nell'olocene lì in fondo abbiamo già visto ieri questo grafico che è un interglaciale e quindi vedete che sono le ultime almeno oscillazioni irregolari e che lentamente la temperatura scende guardiamo dentro il cerchio rosso dal numerello 11 lo stadio 11 la temperatura lentamente scende e la quantità di ghiacci cresce corrispondentemente fino a raggiungere un picco glaciale e poi una deglaciazione relativamente rapida con una fusione generalizzata di ghiacci e muoversi verso un interglaciale più caldo e poi il ciclo ricomincia è un tema di ricerca affascinante anche perché bisogna capire perché si è innescato 3 milioni di anni fa questo comportamento oscillatorio e perché circa un milione di anni fa è passato da 40 mila anni a 100 mila anni e ci sono molti lavori su queste diciamo estremamente interessanti la periodica quasi periodicità in qualche modo la periodicità molto approssimata vedete che è un segnale comunque irregolare ma con questa periodicità approssimata dovrebbe essere in realtà guidata dalle variazioni dell'orbita terrestre l'orbita terrestre non è diciamo non è un'ellisse perfetta che non si muove mai ma ha un'eccentricità a causa della perturbazione degli altri pianeti della diciamo dell'intero sistema solare e il moto dei pianeti e dei satelliti è caotico anche se su tempi molto lunghi come ha mostrato un astronomo francese Jacques Lascar e quindi nel breve periodo l'elitticità cioè quanto è allungata l'orbita terrestre cambia e cambia anche scusate torniamo indietro cambia anche l'inclinazione dell'asse terrestre che adesso è di 23 gradi ma può oscillare un po' di più un po' di meno e cambia anche la posizione degli equinozi allora la base di questa teoria del controllo orbitale sulle glaciazioni che viene detta teoria di Milankovic dal nome di Milutin Milankovic un ingegnere astronomo scienziato serbo negli inizi del novecento è che quando l'obliquità è maggiore arriva più radiazione solare in primavera nell'emisfero nord e nelle alte latitudini e quindi questa maggiore radiazione solare nell'emisfero nord e nelle alte latitudini tende a fondere più facilmente il ghiaccio che si è formato durante l'inverno e quindi il controllo su quanto ghiaccio da un anno all'altro si fonde o rimane è legato anche proprio all'obliquità soprattutto all'obliquità e quindi però questo non è un segnale che è sufficientemente forte da far fondere tutto il ghiaccio o non farlo fondere deve essere amplificato per esempio proprio dal feedback ghiaccio albedo perché ci sono questi meccanismi di amplificazione interna e questa appunto è la cosiddetta teoria astronomica delle glaciazioni dell'era glaciale da tre milioni di anni fa oggi e i periodi glaciali o interglaciali sono questi singoli individuali l'ultimo periodo glaciale è stato circa ventimila anni fa al picco e dopo ha cominciato a diminuire e allora andiamo a vedere in un'altra carota non vi ho detto come si ottengono questi dati questi dati si ottengono da carotaggi glaciali in Antartide e questo c'è stato un primo carotaggio vicino alla stazione russa di Vostok e infatti viene chiamato il carotaggio di Vostok il Vostok High Score che arrivava a 400 mila anni poi c'è stato un grandissimo progetto europeo chiamato EPICA che ha portato a questi dati che vedete qui un carotaggio degli ultimi 800 mila anni e poi adesso è in corso è stato approvato ed è in corso un progetto che si chiama Beyond EPICA che dovrebbe arrivare più o meno al massimo che si può vedere nella carota antartica cioè un milione due un milione tre di anni nel passato notate che le temperature sono sempre ottenute dalle misure isotopiche di Deuterio in questo caso di ossigeno 18 proprio per i motivi diciamo di frammentazione che ho già detto prima ma ci sono anche misure dirette di anidride carbonica ed è bellissimo capire come sono fatte queste misure perché sono questa è la concentrazione di anidride carbonica che è conservata nelle bollicine di aria che sono rimaste intrappolate nel ghiaccio quando si stava formando quindi nel ghiaccio ci sono bollicine di aria che contengono l'aria di 400 mila anni fa 600 mila anni fa e così via e quindi è una tecnica assai complessa che però permette di ricostruire in modo molto dettagliato l'andamento per esempio della CO2 e delle temperature se veniamo invece a tempi più vicini a noi andiamo a vedere l'ultimo picco glaciare e qui il tempo scorre invece tanto per confondere le idee da sinistra verso destra vedete di nuovo delle temperature e vedete che cosa che durante il picco glaciale in realtà la temperatura è fortemente variabile è oscillante varia fra caldo e freddo sempre sul freddino però varia fra caldo e freddo molto rapidamente come delle mini epoche glaciali molto rapide questa è una temperatura di un carotaggio groenlandese quindi dell'emisfero nord mentre invece se andate a vedere l'ultimo periodo periodo interglaciale dell'olocene la temperatura è molto più stabile allora la scoperta di queste oscillazioni ci sono due tipologie di oscillazioni ci sono questi eventi di Dansgard-Öschger che hanno una periodicità molto approssimata di 1500 anni ma molto approssimata e degli eventi scoperti un po' per caso da Heinrich quando era un post-doc un giovane ricercatore gli eventi di Heinrich che sono grandi rilasci di ghiaccio da parte degli scudi glaciali e di grandi iceberg che poi girano per l'oceano si fondono alle latitudini tropicali e rilasciano sul fondo dell'oceano i sedimenti glaciali che avevano intrappolato e quindi sono stati scoperti questi eventi di Heinrich come grazie al fatto di aver trovato dei sedimenti glaciali qua e là sul fondo dell'oceano in latitudini tropicali l'oceano atlantico e le gli eventi di Heinrich sono corrispondenti alle oscillazioni di Dansgaard e Oeschger più forti più 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 importanti allora affascinante affascinante il fatto che sono state trovate oscillazioni analoghe anche in Antartide in 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 opposizione di fase con un piccolo sfasamento cioè quando l'Artico è caldo l'Antartide è freddo e viceversa e allora dobbiamo cercare di capire cosa è successo e cercare di capire cosa è successo la spiegazione più ragionevole e più supportata dai dati è l'instabilità della circolazione termolinea allora l'idea ritorniamo alla circolazione termolinea vedete guardate nell'Atlantico il ramo blu cioè quello profondo vedete che l'acqua fredda non è che risale all'equatore ma continua sul fondo dell'oceano andare fino quasi in Antartide e risale poi dopo cioè c'è acqua antartica che calda portata che arriva e attraversa l'equatore è una circolazione più complessa rispetto al dire sprofondo in al polo e risalgo all'equatore questa si fa tutto il giro va fino all'altro polo allora cosa vuol dire che la circolazione termolina portando acqua fredda verso dal polo nord verso il polo sud richiama acqua calda attraverso l'equatore e quindi permette il riscaldamento delle latitudini delle alte latitudini nord ora se ho un grande rilascio di ghiaccio vuoi per questo riscaldamento vuoi anche per instabilità dinamiche delle calotte le calotte hanno una loro dinamica di ghiaccio che quando diventano troppo grandi possono diventare instabili oppure appunto per il semplice fatto che l'acqua sta diventando più calda perché sto portando molto calore dall'equatore si forma un sacco di acqua fredda dolce però e quindi rallenta la circolazione termalina quindi rallenta quel ramo blu quindi se rallenta il ramo blu di acqua che va via rallenta anche il ramo rosso di acqua che arriva superficiale e quindi si ha un raffreddamento improvviso dell'atlantico del nord dopodiché e cosa succede però nel polo sud in antartide il calore che prima veniva portato via da quel ramo rosso si accumula quindi mentre l'artico l'oceano arti gli oceani artici si raffreddano gli oceani antartici si riscaldano perché il calore non viene più portato via bene ma poi cosa succede che lentamente essendosi raffreddato il ghiaccio cresce di nuovo non c'è più acqua dolce che viene immessa e quindi lentamente la circolazione termolina riprende riprende e cosa fa e porta via di nuovo calore dall'antartide e quindi è un'altalena Wally Brocker che è stato appunto il padre uno dei padri fondatori dello studio della circolazione termolina e di molte altre cose ha chiamato con termine geniale questa oscillazione l'altalena bipolare perché continua perché coinvolge sui due poli è in opposizione di fase con un lieve sfasamento del polo sud perché reagisce lentamente perché ha delle coste diverse rispetto a quelle del polo nord e quindi il polo nord si scalda collassa blocca la circolazione termolina non la blocca la rallenta rallenta il trasporto di calore quindi si riscalda cioè quindi si raffredda il trasporto di calore viene rallentato il polo sud si riscalda però di là intanto riprende e così via il motore è sempre nella zona artica allora la cosa interessante che discutevamo ieri alla fine è che questa oscillazione seppur molto 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 più modesta potrebbe continuare ancora oggi perché comunque abbiamo un 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 artico che ha e un antartide che hanno comunque di ghiacci e quindi potrebbe esserci questo segnale di oscillazione e quindi il rallentamento della corrente del golfo potrebbe non essere il segno di un cambiamento drastico fra due stati ma un segno di questa oscillazione eventualmente perturbata modificata certamente dall'intervento umano e quindi eventualmente amplificata di nuovo dall'intervento umano che tende a fare fondere molto di più i ghiacci del nord ecco però per dire il sistema climatico di per sé è ricco di comportamenti inaspettati di oscillazioni di comportamenti caotici e così via poi ecco andiamo invece ancora qui vedete verso la fine intorno a 20 e 15 mila anni fa la temperatura è aumentata i ghiacci si sono fusi si sono fusi un po' perché la condizione orbitale era favorevole cioè era aumentata l'oscillazione scusate l'obliquità per cui la quantità di radiazione solare che arrivava alle alte latitudini ma anche è un processo complicato perché comincia a aumentare un po' le temperature i ghiacci si fondono ice albedo il ghiaccio albedo questo feedback comincia a fare il suo lavoro comincia a essere emessa tantissima nitide carbonica dagli stagni che si formano diventa un mondo più più oso con la vegetazione più rigogliosa per cui viene emessa CO2 la quale CO2 amplifica questo segnale e porta alla deglaciazione CO2 probabilmente non è il primissimo motore ma immediatamente reagisce e l'ecosistema reagisce e emette CO2 e quindi questo amplifica quella fluttuazione un po' più forte delle altre però vedete quest'ultimo spasmo chiamato dello Younger Drias la Drias Octopetala è una piantina artica che si trova anche sulle alte montagne sulle Alpi per esempio ma è stata trovata più a sud di dove abitualmente è in questo periodo intorno ai 13.000 anni fa e quindi questo periodo è stato chiamato il Dryas perché sono state trovate molte di queste piantine che vuol dire che era freddo e Younger perché ce ne sono altri tre c'è il vecchio c'è il più giovane c'è il vecchio c'è il vecchissimo ma sono molto meno intravedete ma sono molto meno importanti quello più importante è questo ultimo spasmo probabilmente di circolazione termalina che è ricollassata e poi si è definitivamente usciti quindi l'uscita da una glassazione non è un processo lento i cambiamenti climatici non sono mai un processo lento ma vanno avanti per spasmi in qualche modo l'uscita dalla glassazione intorno definitivamente a 10.000 anni fa con l'Olocene che ha un clima molto più stabile estremamente più stabile non è un caso che 10.000 anni fa comincia la storia umana comincia l'agricoltura comincia perché si può si ha un clima che non ha più quelle oscillazioni degli anni precedenti in cui gli umani c'erano già ma vivevano come cacciatore raccoglitori in un mondo molto diverso perché era un mondo molto più arido l'Europa era coperta di steppa gli acci arrivavano scoprivano la Scozia e tutta l'Europa del nord e pioveva molto meno era un mondo molto polveroso proprio in quegli stessi carotaggi glaciali si vede che nei pichi glaciali c'era una quantità di polveri enormi quindi era un mondo non così adatto all'agricoltura diciamo e invece l'Olocene diventa più piovoso più caldo più stabile nasce l'agricoltura nascono le prime città nasce Uruk nascono insomma si produce un surplus di cibo per cui non tutti si devono lavorare per la pura sussistenza ma ci sono alcuni che possono dedicarsi ad attività come la religione le arti fare i soldati fare gli imperatori insomma e vi consiglio quel libro bellissimo che è acciaio armi e malattie di Jared Diamond ormai un po' vecchio ma veramente molto bello quindi siamo nell'Olocene siamo nell'Olocene e vediamo che cosa è successo negli ultimi 12.000 anni più o meno le ricostruzioni di temperatura sono queste vedete il tempo scorre da sinistra verso destra 12.000 anni fa è l'uscita della glaciazione vedete le temperature che aumentano e negli ultimi 10.000 anni le temperature medie e globali non sono variate mai più di un grado per centigrano in realtà anche anche meno questa è un'anomalia di temperatura rispetto al periodo 1800-1900 messo come rispetto a quel periodo lì e rispetto a 1800-1900 vedete che le temperature nel cosiddetto optimum climatico intorno a 6.000 7.000 anni fa erano più alte di un grado o probabilmente anche meno le tre curve e quei tre colori sono tre ricostruzioni diverse che sono abbastanza consistenti a partire da 7.000 anni fa e prima c'è qualche qualche discrepanza ovvia perché sono tutti dati di ricostruzione però è importante questo fatto poi localmente c'erano periodi invece più caldi per esempio tutta la zona dell'artico era più calda 7.000 anni fa anche di 2 o 3 gradi ma la media globale non è più variata molto e questo che si intende quando si dice un clima stabile è interessante che 8.000 6.000 anni fa c'era un periodo in cui il Sahara era vegetato non con foresti russureggianti ma comunque sono evidenze di vegetazione laghi evidenze fossili di laghi c'è ancora dell'acqua profonda che si è poi infiltrata ed era appunto legato a un ciclo idrologico con un monsone diverso rispetto a oggi più attivo a portare acqua andiamo allora adesso agli ultimi 2.000 anni perché vedete che c'è il picchetto di salita in fondo gli ultimi 2.000 anni sono stati ricostruiti da una collaborazione internazionale che si chiama Pages 2K che ha ricostruito varie diverse proxy cioè dati ricostruiti di temperatura negli ultimi 2.000 anni quello che vedete è una lieve diminuzione lenta diminuzione di nuovo la curva in scuro in blu scuro è la media mentre le altre sono le incertezze che derivano dall'avere dati diversi pochi dati eccetera quello che vedete è un periodo mediamente più caldo cosiddetto che comincia già in epoca romana e poi si conclude più o meno poco dopo l'anno 1000 e a volte viene chiamato il medioevo il medioevo caldo però si preferisce chiamarla anomalia termica del medioevo perché in realtà è stato molto variabile e poi un periodo freddo chiamata anche la piccoletta glaciale intorno al 1600 piccata intorno al 1600 le motivazioni di queste fluttuazioni abbastanza modeste sono state studiate per esempio per la piccoletta glaciale un periodo in cui c'erano poche macchie solari c'erano poche macchie solari e quindi oggi si sa che nel minimo di un ciclo solare di 11 anni l'emissione solare è leggermente inferiore leggermente parliamo dello 0,1% o meno e quindi visto che c'erano poche macchie solari nessuno aveva misurato la radiazione solare all'epoca però è ragionevole pensare che il sole potesse essere leggermente meno emissivo meno potente e quindi questo si si pensa che potesse essere per molto tempo si è pensato che potesse essere dovuto a questo fatto e così come nel medioevo caldo alcuni hanno ipotizzato un sole un po' più caldo l'errore però di questo tipo di approccio è pensare che il clima non sia agitato di per sé ma risponda più o meno passivamente a variazioni delle forzanti esterne in realtà se noi andiamo a vedere sia la piccola età glaciale sia il medioevo queste anomalie sono soprattutto concentrate intorno al nord atlantico Europa e America del nord e quindi sembrerebbe piuttosto una manifestazione congiunta di molte cose forse un po' anche di ridotta attività solare parlo della piccola età glaciale ma anche di irruzioni vulcaniche particolarmente rilevanti in quel periodo l'anno senza estate è stato i primi vent'anni dell'ottocento e soprattutto l'oscillazione residua della circolazione termolina questo potrebbe essere stato un un motore che spiega anche perché è essenzialmente concentrata intorno al nord atlantico questa oscillazione se andiamo a vedere le ricostruzioni nelle varie regioni del mondo vediamo appunto che in particolare c'è questo periodo di freddo vedete gli anni vanno da destra verso sinistra le varie righe sono zone diverse le zone più affette sono proprio quel blu più scuro quel nord atlantico ma non solo però ci sono anche in australasia ci sono in sud america del sud però non sono non sono sincrone ecco questo idem il medioevo caldo in america è stato caldo ha portato siccità ha portato probabilmente alla fine della civiltà degli anasazi però sono oscillazioni che geograficamente non sono non sono uniformi non sono omogenee non sono dappertutto mentre invece se voi andate a vedere gli ultimi cento anni è un po' più dappertutto l'aumento della temperatura questa è un'altra evidenza che è un po' diverso quello che sta succedendo adesso rispetto a quello che è successo prima e lo si vede anche dalla derivata da quanto rapidamente sta cambiando la temperatura quindi anche se la circolazione termoalina non sta collassando comunque certo che questo rilascio di ghiaccio associato a questo aumento delle temperature sta disturbando la periodicità normale della circolazione termoalina io mi fermo qui per quanto riguarda la storia del clima perché entriamo negli ultimi cento anni e quindi lo vediamo lunedì allora abbiamo prima parlato dei meccanismi poi abbiamo parlato di un po' della storia passata arrivando all'alba dell'antropocene per usare un termine a volte un po' abusato ma facciamo un passo indietro e chiediamoci perché il clima della terra è speciale cioè nonostante tutte quelle grandi fluttuazioni di cui abbiamo parlato il clima della terra è sempre variato fra limiti che hanno permesso la presenza della vita come dicevamo già ieri non come su Marte non come su Venere allora perché la variazione più o meno l'abbiamo discussa ma c'è anche una in qualche modo una capacità o una fortuna della terra di non avere mai raggiunto 100 gradi centigradi o di essere rimasta in snowball che poteva benissimo rimanere non c'è rimasta perché c'erano i vulcani allora perché il clima della terra è così speciale oltre al fatto che è speciale per noi visto che ci viviamo la prima cosa è che c'è un inviluppo fluido senza questo inviluppo fluido non ci sarebbe il clima non ci sarebbe niente da dire e non ci sarebbe nessuno probabilmente che può dire qualche cosa e c'è dell'acqua non solo un inviluppo fluido ma non è un pianeta secco ma è ricco di acqua che abbiamo visto l'acqua cambia sia la termodinamica sia la tipologia dei minerali che si formano quando è ricca di ossigeno e la temperatura e la pressione abbiamo detto sono vicini al punto triplo dell'acqua quindi c'è un ciclo idrologico con una termodinamica molto ricca c'è una geodinamica che attiva la subduzione vi dicevo che insieme al ciclo di alterazione delle rocce porta al riciclo della CO2 e questo è importantissimo perché abbiamo visto che influenza il clima ma nello stesso tempo ha un effetto calmierante ha un effetto di diciamo riduzione della violenza delle oscillazioni e questi li abbiamo visti tutti però bisogna ricordarci che come ho detto prima la Terra è l'unico pianeta conosciuto che abbia una geodinamica attiva con tettonica placche è necessaria per la presenza della vita chi lo sa diciamo ci sono diverse evidenze che probabilmente sì e quindi forse quando si cercano pianeti abitabili che è un'altra attività estremamente interessante cioè climi potenzialmente abitabili bisogna anche cercare se diciamo qual è la probabilità che ci sia una geodinamica attiva di questo genere l'altro punto importante è il campo magnetico il campo magnetico generato dall'effetto dinamo nel nucleo permette la vita sui continenti perché diciamo scherma dei raggi cosmici ma soprattutto permette la permanenza dell'atmosfera Marte che ha avuto un campo magnetico molto più debole ha avuto l'atmosfera erosa dal vento solare mentre invece il campo magnetico terrestre tiene lontano diciamo allontana il vento solare dall'interazione diretta con l'atmosfera e poi la presenza della luna dal campo magnetico vabbè questo l'abbiamo visto ieri l'ho rimesso solo per ricordarci le cose che abbiamo imparato ma questo è il campo magnetico dicevamo appunto che protegge l'atmosfera terrestre sostanzialmente ma la presenza della luna di nuovo citata e studiata da Jacques Lascar il punto è che la luna è molto grande rispetto alla Terra e stabilizza la variazione dell'inclinazione dell'asse terrestre se non ci fosse la luna l'asse di rotazione avrebbe delle fluttuazioni su scala di tempo delle centinaia di migliaia di anni molto più forti rispetto a quelle che ha che adesso è confinato diciamo intorno ai 23 gradi e quindi senza la luna avremmo le stagioni che si randomizzano e per esempio su un pianeta con un asse di rotazione nel nel piano della rivoluzione quindi perpendicolare all'asse di rivoluzione le calotte glaciali non stanno ai poli ma stanno sull'equatore perché è la zona del pianeta che prende meno energia solare mediata sull'anno e quindi sarebbe una dinamica completamente diversa che ogni 100.000 200.000 anni avremmo un cambiamento completo della circolazione atmosferica eccetera e quindi c'è la possibilità che la presenza della luna sia un fattore stabilizzante che ha permesso la stabilità del clima terrestre e quindi la presenza della vita la quale vita ha ovviamente influenzato enormemente la dinamica climatica del nostro pianeta senza arrivare a dire che l'ha controllata o che però certamente l'ha influenzata molto in che modo beh abbiamo visto prima di tutto che la composizione dell'atmosfera terrestre è in gran parte dovuta all'attività dei cianobatteri se noi sterilizzassimo la terra probabilmente nel giro di poco l'ossigeno sparirebbe dall'atmosfera perché non c'è niente che lo genera verrebbe a ossidare le rocce superficiali diventerebbe forse un po' come Marte e non ci sarebbe più ossigeno in atmosfera ma non solo la vegetazione abbiamo visto il meccanismo di Cerni perché in generale la vegetazione è più scura del suolo ma non solo ma la vegetazione riduce la CO2 atmosferica crescendo la fotosintesi spesso un effetto di pozzo per la CO2 atmosferica in più c'è un effetto di evapotraspirazione perché la vegetazione butta molta più acqua in atmosfera rispetto al suolo nudo l'evaporazione è molto veloce ma è confinata ai 10 cm più alti mentre invece la vegetazione ha radici che possono arrivare a molti metri di profondità e quindi assorbe acqua e poi la rilascia attraverso i pori ed è un effetto molto più grande rispetto alla pura evaporazione questo è un equivalente di un meccanismo di Cerni ma sulla evapotraspirazione se a un certo punto avessi meno vegetazione o minore traspirazione quindi di nuovo una colonna d'aria più stabile quindi minore precipitazione e quindi meno vegetazione è molto simile ma non è un effetto albedo ma è un effetto di evapotraspirazione cioè evaporazione e traspirazione dalle piante e poi c'è una caratteristica di alcuni organismi che sono stati chiamati a essere nel 1994 ingegneri dell'ecosistema cioè capaci di modificare l'ambiente in cui vivono pesantemente per il loro stesso beneficio ma facendo questo cambiano l'ambiente esempio i castori i castori trasformano una valle quindi un ecosistema terrestre in un lago costruendo le dighe quindi un ecosistema acquatico lo fanno perché hanno diciamo si sono evoluti e sono stati selezionati quelli che facevano questa operazione che li protegge dai predatori terrestri che sono i peggiori per i castori mentre non hanno grandi predatori acquatici e quindi l'evoluzione ha selezionato i castori costruttori di dighe ma facendo questo proprio esclusivo beneficio per selezione naturale cambiano completamente l'ambiente cambiano le pressioni selettive sugli organismi terrestri sugli organismi acquatici e quindi modificano l'ecosistema analogamente i lombrichi cambiano completamente le caratteristiche del terreno analogamente gli arbusti del deserto che creano isole di fertilità intorno a loro stessi e creano zone più umide rispetto a quello che capita intorno perché nel deserto si forma una crosta batterica che è parzialmente impermeabile all'acqua crosta di cianobatteri che fa scorrere parte dell'acqua dove verso quelli punti dove la crosta è stata rotta dalla presenza di arbusti i quali quindi il sistema arbusto più crosta genera la possibilità di avere molta acqua intorno all'arbusto che poi viene utilizzata da altri organismi altri organismi come gli isopodi che sono questi bestiolini messi lì in alto a sinistra che scavano delle gallerie e facilita ulteriormente l'infiltrazione dell'acqua nella zona dell'arbusto e quindi ecco che viene modificato l'ambiente in generale la modifica delle pressioni selettive porta a quella che è la teoria della costruzione della nicchia cioè ci sono alcune molte tipologie di organismi che sono in grado non solo di adattarsi a una nicchia ecologica ma di costruirsela cioè di costruirsela come i castori si costruiscono la loro nicchia ecologica e quindi è sempre una trasmissione ereditaria perché la capacità di essere ingegneri dell'ecosistema è stata selezionata in modo genetico ereditario però è una trasmissione di diciamo attraverso l'ambiente che è estremamente interessante e poi appunto i grandi cicli biogeochimici globali che sono quelli che abbiamo dato descritto come metafora con quella di Daisy ma che in realtà sono molto più complessi includono un effetto di diciamo di ingegneria dell'ecosistema se esiste a livello globale che i cicli biogeochimici globali esistono e modifichino il clima è assolutamente vero che possa esserci un effetto di omeostasi e ancora diciamo tutto da tutto da discutere però volevo concludere sostanzialmente con un po' di ricercatori del passato e del presente col fatto che il clima della Terra è caratterizzato dalla presenza della biosfera e che l'interazione fra geosfera e biosfera è assolutamente cruciale cioè il nostro è un pianeta vivente la Terra è stata definita da Andrew Wallace che è scritta questa foto in bianco e nero in basso a sinistra contemporanea di Darwin e co fondatore della teoria dell'evoluzione per selezione naturale come one grand organic cool cioè un grande tutto organico il primo che ha diciamo proposto e sostenuto l'idea di natura nel senso moderno è proprio Alexander von Humboldt che a partire dalla fine del Settecento fino a mezza ottocento è questa figura a colori a sinistra ha fatto passare la percezione della natura da una percezione di natura macchina di tipo cartesiano a la natura come rete di interconnessioni come network di interazioni e interconnessioni ed è c'è un bellissimo libro di una divulgatrice scrittrice tedesca che è Andrea Wolf proprio su intitolato l'invenzione della natura ed è dedicato a von Humboldt proprio e quindi è abbastanza diciamo interessante leggere anche alcune delle opere di von Humboldt tra l'altro lui è stato uno dei primi forse il primo a notare la possibilità che l'intervento umano potesse cambiare il clima andando a notare il disastro fatto dalle piantagioni coloniali in America del Sud e come queste avessero modificato il regime idrologico locale ovviamente il clima locale ed è diciamo oltre che essere stato un grande diciamo internazionalista pacifista antischiavista metteva in guardia sui disastri che stava facendo lo sfruttamento coloniale di quelle zone non parlava di CO2 il primo invece a parlare di CO2 non il primo a parlare il primo a parlarne in modo articolato con un articolo specifico molto profondo è stato poi invece Svante Arrenius alla fine dell'Ottocento che primo ha percepito bene i legami fra CO2 e clima terrestre agli inizi del Novecento c'è quel signore pensoso in alto a sinistra che è Vladimir Vernadsky che è il fondatore della biogeochimica moderna è scritto nel 1926 un libro che si chiama Biosfera pubblicato in Ingrado tradotto poi pochi anni dopo in francese ma tradotto in inglese soltanto a fine anni 70 ed è un libro ovviamente scritto con linguaggio del 1926 ma è estremamente interessante per il resto Vernadsky parla di un'ulteriore evoluzione della biosfera che cresce fino a trasformarsi nella no-sfera la no-sfera è questo mondo dominato dall'intelligenza e dall'agire intelligente umano che curiosamente è stato ripreso e citato anche da Teilhard de Chardin gesuita Bernadsky ateo Teilhard de Chardin gesuita in viso sia ai religiosi che agli scienziati perché ha delle posizioni abbastanza pittoresche ma molto interessanti e tutte e due parlano di questa ulteriore evoluzione sulla destra vedete in basso Arthur Tansley il fondatore di colui che ha inventato il termine ecosistema nei primi decenni del novecento e l'ecosistema come un nelle sue parole un unico sistema fisico nel suo ambiente quindi l'ecosistema non sono solo gli organismi ma è questo un grande organico e poi in alto Lynn Margulis grandissima scienziata biologa ha lavorato molto sui mitocondri e ha aiutato ha collaborato con James Lovelock appunto nella proposta dell'ipotesi Gaia anche se i due avevano una posizione un po' diversa ecco quindi in qualche modo capire il clima è anche capire l'interazione il clima della Terra fra geosfera e biosfera e questo aprirebbe a tutta una serie di discorsi su capire quale può essere il clima degli esopianeti che si stanno scoprendo di cui sappiamo molto poco peraltro ma che possiamo simulare cercare di capire con quei con quei metodi che abbiamo visto qui in modellini semplici o un po' meno semplici che abbiamo visto ieri e io direi che con questo possiamo concludere oggi e ci rivediamo lunedì grazie però prima chiediamo se ci sono domande ti chiederei sempre una vai se uno si dimentica gli ultimi due secoli l'industrializzazione e somiglia a un uomo a un castoro si vedono gli effetti dell'agricoltura nell'Europa a partire da quando è 5-6 mila anni prima questa è una domanda importante perché lo vediamo meglio lunedì ma la domanda è quando comincia l'antropocene cioè quando comincia l'epoca in cui l'attività umana lascia un segno e c'è un scienziato che si chiama rudiman che sostiene che si veda effettivamente il segnale dovuto all'agricoltura e che addirittura abbia rallentato il raffreddamento che avrebbe portato al lento innesco di una nuova di un nuovo periodo glaciale perché dura molto l'olocene cioè è durato in realtà non ci sono evidenze così forti che l'agricoltura le risaie soprattutto e anche i campi coltivati e gli incendi che abbiano veramente modificato il clima cioè è molto labile questa evidenza quando inizia l'antropocene ci sono ci torniamo lunedì ma c'è un'idea che sia appunto quella di rudiman che si è cominciato sostanzialmente con l'agricoltura quella standard si è cominciata con la macchina a vapore più o meno quindi con l'emissione di CO2 e poi c'è l'idea forse un po' provocatoria che si è cominciata negli anni 60 quando diciamo 50-60 con gli esperimenti nucleari in atmosfera hanno lasciato uno strato di cesio 137 che sarà visibile per molti secoli a venire quindi diciamo i geologi del futuro potranno dire qui è iniziato l'antropocene perché è un segnale molto evidente insomma oppure diciamo poi ci sono tanti altri manufatti nostri che lasciamo ovunque e che potrebbe potranno rimanere nei vari nei vari strati anche la diffusione di piante per esempio le piante sono molto più omogeneizzate rispetto ai secoli precedenti quindi anche questo è un altro è un altro segnale della presenza umana ok grazie ciao buona buona serata allora allora ci vediamo lunedì grazie arrivederci arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.